80 euro due settimane, 160 euro un mese. 80 euro promessi da Renzi. Perché questo volantinaggio? Perché sono finti, questi sono gli eurenzi, quelli che Renzi promette alla gente facendo credere che con questi arriverà la ricchezza nelle tasche delle persone, ma in realtà i fatti sono finti, come le sue politiche, sta dicendo la gente che creerà lavoro facendo un decreto, ma in realtà i fatti creerà semplicemente più precariato e difficoltà per chi vuole lavorare. Non fatevi ingannare, questi soldi non sono veri, sono finti. Eh tieni, fai a vedere, sono gli 80 finti. Perché gli 80 euro falsi di Renzi è bene che la gente sappia che non saranno mai erogati, mai li vedranno, la tassazione è molto più alta di quello che falsamente viene detto di essere erogato a coloro che hanno radditi bassi, in realtà nessuno verrà 80 euro, nessuno sarà in grado di poter avere un minimo di miglioramento in quello che è la busta paga. E non solo, ricordiamoci che ci sono disoccupati e esodati gente che non solo non ha un reddito minimo, ma proprio non ha reddito. Oggi con la fiducia al decreto del lavoro il governo Renzi ha nuovamente confermato questa incapacità di dare risposta a queste persone. Noi siamo qui a volontinare, a manifestare le bugie e le falsità di questo governo, incapaci di dare risposte alla gente che muore di fame fuori delle porte. Questi 80 euro sono un modo un po' simpatico che abbiamo deciso di utilizzare per far capire agli italiani che ancora una volta Renzi li sta prendendo in giro, promette 80 euro da un lato con una mano e con l'altra invece gliene ruba altrettanti e quindi noi come gruppo Lega al Senato abbiamo deciso di iniziare a far capire agli italiani che forse una volta tanto bisogna svegliarsi, che non bisogna guardare quelle che sono le promesse elettorali di un Presidente del Consiglio un po' troppo chiacchierone e guardare i fatti concreti. E quindi con questi 80 euro è l'inizio di una serie di manifestazioni che faremo da qui a fino a quando Renzi rimarrà in carica. Speriamo poco.